Leonardo Silva Revisore Buon pomeriggio a tutti. Stavo prendendo confidenza. Perfetto. C'è un momento in cui le frontiere diventano sempre affollate. C'è un momento in cui, dopo che sono roba da pionieri, roba da visionari, da avventurieri, da disperati, le frontiere diventano di moda. Oppure si capisce che sulle frontiere si gioca davvero il destino del futuro. Che se stiano a est o a ovest importa poco, che riguardino grandi cambiamenti della storia dell'industria, della tecnologia o dell'informazione, è un dettaglio. Il destino delle frontiere, che a un certo punto diventano molto, molto affollate. Ed è bello, ed è difficile quando si è in tanti. L'altra sera ne ho avuto una rappresentazione molto precisa, molto esatta. Sono andato alla presentazione dell'Huffington Post a Milano. Sono entrato in questo grande hangar buio a Via Savona, dove una volta c'era l'industria in città, e adesso è diventata invece la patria chic del design, della moda, di quel tanto di creatività che ancora resta alla città in cui sono nato e cresciuto, a dir la verità. E in questa enorme sala, grande come un campo da calcio regolamentare, forse di più, nel buio delle luci ho visto Luci Annunziata, ho visto Arianna Huffington, ho visto l'ingegnere De Benedetti, ho visto PR, giornalisti, astuoli, gente che vuole lavorare all'Huffington. Ho visto un buffet per 600 persone. E siccome da un paio d'anni, da quando è nata l'inchiesta.it, faccio il giornalista, ma tengo d'occhio tutti i giorni, in tutti i momenti, i business plan e i costi, ho fatto i conti in tasca ai concorrenti dell'Huffington Post, e ho realizzato che quella festa, quella presentazione bellissima, più o meno costava come un mese di vita del giornale che ho l'onore di dirigere, che è l'inchiesta. E guardando le spalle larghe di questa grande esperienza, di questo grande stimolo che arriva adesso sul mercato italiano e di molti altri, ho pensato a oggi e ho pensato ma saremo stati coraggiosi o saremo stati pazzi a voler far l'inchiesta.it? Ovviamente la mia risposta è che siano stati coraggiosi e lungimiranti. Adesso provo anche a spiegarvi un po' che storia è. Mi scuso con tutti se esco dalle luci, ma ce l'avevo sparata qua e facevo un po' fatica a non vedere nessuno in faccia se non una grande luce. L'inchiesta è nata attorno a un tavolo, tra me e poche altre persone, quando siamo partiti, quando tutto iniziò, partendo dall'idea che ci fosse spazio per un giornale davvero nuovo nei mezzi e davvero libero, davvero indipendente. Credevamo, insomma, che si potesse fare approfondimento, inchiesta, con particolare attenzione al mondo del potere economico e delle sue relazioni con la società, con le vite di tutti noi, in maniera davvero indipendente, non solo dichiarandolo, ma essendolo. Nessuno di noi era una star. Io ero un giornalista dei tanti che ci sono nel nostro paese. Non necessariamente più bravo di altri. Dovevo dimostrare tutto. Le persone che con me hanno concepito questa storia non avevano mai fatto editoria professionalmente e neanche a latere. Ci siamo messi a lavorare con un obiettivo che abbiamo lasciato in dubbio fino a quando non l'abbiamo visto vicino. Solo in quel momento l'abbiamo abbracciato. E l'obiettivo era appunto fondare un giornale, fondare l'inchiesta. Proprio perché volevamo indipendenza vera, abbiamo costruito un modello societario che in Italia ancora non c'era, cioè quello di una vera public company, che vuol dire che nessuno poteva detenere quote di controllo. e questo per partire era indispensabile perché nessuno era disposto a investire tanti soldi su un progetto che sembrava tra l'ambiziosissimo e il velleitario a tanti e perché noi non volevamo che qualcuno potesse dire quel giornale è mio. Volevamo che questo giornale fosse anzitutto della community dei lettori che doveva conquistarsi un giorno dopo l'altro. Abbiamo iniziato a progettarlo, a lavorare, a vedere cosa funzionava, cosa non funzionava. Abbiamo iniziato a pensare a un giornale solo online di approfondimento e anche questa sembrava un'eresia perché tutti ci dicevano che sull'online due cose vanno. le star, e noi purtroppo non eravamo sprovvisti da un lato, e tante tante news, e noi non volevamo fare quello. Volevamo invece fare un giornale di approfondimento, di qualità, di inchieste, di opinioni qualificate e così via. Com'è come non è, a un certo punto ci siamo trovati ad avere le potenzialità per partire, per avere almeno un anno e mezzo di vita davanti, con una redazione molto piccola, fatta di dodici giornalisti, con la missione dell'indipendenza per tutti, da cui non potevamo muoverci e non vogliamo muoverci neanche di un metro, e con la particolarità di una redazione tutta fatta per lo più di giornalisti giovani, di giornalisti non conosciuti ma motivati a farsi conoscere, a farsi riconoscere, e cercando da subito, da sempre, un dialogo franco, a volte troppo, e arriverò dopo a spiegarvi perché, con i nostri lettori. Bene. A un certo punto siamo nati, era il 31 gennaio del 2011, e siamo partiti. Abbiamo iniziato ad esistere, ad essere online, ad essere un giornale, un giornale nella scena italiana. Prima di noi erano partite un paio di realtà riconosciute, riconoscibili, sono il post e lettera 43, poi siamo arrivati noi. Ora non so quanto i meccanismi di controllo da parte del potere economico e degli interessi economici sull'informazione siano trasparenti e visibili nel day by day a chi non fa informazione professionalmente, ma magari professionalmente ha bisogno di informazioni. Credo che ormai il resto sia nudo, credo che anche in questa sala ci siano pochi tra voi che resterebbero sorpresi di sapere certe cose. Sta di fatto che per noi, che eravamo un giornale di approfondimenti e inchieste, con un'ottica molto precisa sull'economia e la finanza anzitutto, è stato fin troppo facile scoprire che benché piccoli, benché giovani, benché senza star, era un attimo dare fastidio, era un attimo ricevere pressioni, era un attimo essere riconosciuti come un prodotto che comunque, con tutti i suoi limiti, con tutte le naturali immaturità di un giornale appena nato, rompevamo le scatole. E, lo dico senza minimamente voler assumere toni eroici, è stato anche molto divertente accorgersi come colossi che spendono decine e decine di milioni in pubblicità, che possono controllare nel dettaglio quello che esce sui primari organi di informazione, scoprissero però con mal celato fastidio, anzi, con un fastidio per nulla celato, che qualcuno dava una versione dei fatti secondo noi veritiera, ma sicuramente dissonante rispetto a quella che veniva riprodotta sui principali organi di stampa. Non tutti, ovviamente, ma sui principali. Ed è così che un primo elemento dell'informazione online e di questo grande cambiamento passa proprio di qui. non è più possibile dire bugie, non rende più, non è più proteggibile, perché un'analisi spietata dei dati pubblici, dei bilanci, di tutto ciò che è possibile riconoscere, ritrovare, mettere in prospettiva, analizzare con rigore, verificare, non si può più nascondere. Questa, io trovo, sia la vera rivoluzione. Questa orizzontalità, di cui parla anche il titolo di questa discussione, è davvero decisiva, perché improvvisamente, e ci arriverò, improvvisamente il lettore attento, informato, tecnicamente preparato, semplicemente appassionato, è in grado di smontare in un secondo, in un secondo, una bugia ben costruita che appena dieci anni fa avrebbe retto fino alla prova della storia. Il problema qual è? è che il mezzo di sostentamento classico dei media nel nostro paese è la pubblicità. E la pubblicità in Italia, sui giornali, vive di un rapporto, diciamo, ambiguo, tra la sua funzione storica, quella di far conoscere un prodotto, e la sua applicazione pratica, quella di controllare l'informazione. e quindi succede, ovviamente, che tanto più un giornale si dà l'obiettivo e la missione di raccontare con soggetto, verbo all'indicativo, e complemento quello che succede nei palazzi del potere economico, politico, finanziario, e tanto più, tanto più il rapporto con i grandi provider pubblicitari, diventa muscolare, diventa complesso, diventa faticoso. La rete in questo sta portando una rivoluzione, ed è ormai sotto gli occhi di tutti che quel meccanismo che ha garantito prosperità alle casse dei gruppi editoriali, da un lato, e garanzia di protezione dal lato dei grandi gruppi imprenditoriali che questo meccanismo alimentavano, non regge più. Non regge più perché è arrivata la crisi, perché sono crollate le vendite, perché è arrivato internet, e perché con l'arrivo di internet, sì, è vero, il lettore pensa di potersi informare integralmente in rete, ma dall'altro lato l'informazione che raccoglie in rete gli dimostra in un attimo che quelle che ha letto sul giornale spesso sono balle. In tutto questo, la rete regala delle sorprese molto divertenti. noi abbiamo una piattaforma blog. Piattaforma blog sulla quale per statuto noi interveniamo editorialmente, io e i miei colleghi, interveniamo editorialmente solo qualora vediamo un evidente rischio di querela o un evidente strafalcione, cioè qualcosa che proprio non sta né in cielo né in terra per far brutta figura a noi. Allora, può anche capitare nell'informazione orizzontale del nuovo secolo che un nostro blogger abbia avuto la bellissima pensata di stroncare dal punto di vista estetico una campagna pubblicitaria importante che aveva visto non su un altro giornale ma sull'inchiesta quel giorno. Questo è un meccanismo che manda in cortocircuito tutto quel che si era abituati perché io ho ovviamente ricevuto una telefonata da parte, diciamo così, aziendale, da parte dell'azienda che faceva l'inserzione pubblicitaria. Ma questa persona che avevo di fronte che mi telefonava che è una persona intelligente sapeva bene che io per statuto non avevo né la volontà ma neanche il diritto di intervenire su quei contenuti. Allora, voi capite che questo che è un piccolo aneddoto è molto rivelatorio di cosa può succedere mano a mano che i meccanismi cambiano mano a mano che l'innovazione tecnologica porta semi di novità anche nelle pratiche e disintermedia il rapporto tra lettore professionista dell'informazione e operatore non professionale dell'informazione che però ha diritto, se l'è conquistato, di avere una tribuna e di dire la sua su tutto quel che succede. Ovviamente, in questa disintermediazione non mancano le storture e bisogna stare attenti a non farsi prendere da quella retorica della rete per cui sulla rete è tutto bello e sui vecchi media fa tutto schifo perché sulla rete girano facilissimamente e giganteggiano bufale enormi che nessuna smentita può contenere girano, è ormai un grande classico retorico girano teorie complottiste le più assurde le più astruse su qualunque cosa succeda e anche queste non hanno la disponibilità ad un confronto razionale con una verità diversa girano, a maggior ragione tante finte informazioni che in realtà sono vere e proprie marchette in nome della libertà gira e giganteggia la convinzione che chiunque faccia il giornalista sia un servo e quindi qualunque cosa noi scriviamo anche noi che insomma nel nostro piccolo cerchiamo di dimostrare tutti i giorni una fedeltà agli ideali di indipendenza di cui dicevamo anche noi siamo continuamente bersagliati dal complottista in servizio permanente che legge tra le righe e vede in quel riferimento in realtà un sostegno neanche troppo implicito a quella corrente politica che magari il giorno prima invece avevamo trattato malissimo l'esperienza dell'inchiesta è un'esperienza che ha mischiato tanti elementi ha mischiato un pezzo importante di borghesia italiana di borghesia milanese che ha creduto nel progetto editoriale che noi gli abbiamo presentato ha creduto a un progetto imprenditoriale e ha voluto investire su quello e su una squadra di giovani è la storia di un gruppo di giornalisti questi quasi tutti tra i 25, i 42, i 43 anni che hanno chi voluto mettersi alla prova dopo carriere di un certo peso e importanza e chi invece partendo da zero ha voluto e ha avuto l'opportunità di lanciarsi in questa nuova sfida è molto bello per me vedere ogni volta che entro nella redazione in cui lavoro vedere la fatica vedere la fantasia vedere l'entusiasmo vedere la voglia di provarci vedere che il principio di fondo quello per cui tutto ciò che è vero se rilevante noi dobbiamo scriverlo o raccontarlo ecco, vedere che questa cosa è ormai già patrimonio di tutte le persone che lavorano con me e lo è diventato anche per me lo è diventato anche per me molto più chiara e molto più concreta di quanto non fosse prima ora, sarebbe autocelebrativo e poco convincente se io vi dicessi che serve un gran coraggio a fare un giornale indipendente e libero in questo paese perché è fin troppo chiaro a voi che mi ascoltate già da 17 minuti che questa cosa mi piace tanto mi fa stare dentro a una dimensione che è quella che volevo mi fa lavorare con persone di valore con persone libere mi ha fatto crescere tanto nella mia esperienza e anche nelle mie prospettive di crescita futura il vero coraggio, dopo tutto penso è ricordarsi sempre che da oggi in poi non grazie all'inchiesta, non grazie alle altre esperienze ma grazie a come è cambiato il mondo da oggi in poi tutto ciò che resterà sarà noi non sarà io potrà fare a meno di me anche domani fino a domani se volete io di sicuro ci sono e potete scrivermi la mia mail è jacopo.tondelli chiocciola.it ma ciò che spero ciò che mi auguro ciò per cui lavoro tutti i giorni è che l'inchiesta sia un modello un esempio un'idea che tiene che dura che va oltre oltre a ciascuno di noi e questo questo sì davvero per me è coraggio e grazie